Bentornati su Redo Killian, noi siamo Vicini Nick, ingualibili ai cinefi appassionati diversamente boomer e nemici giurati e impoeticamente corretti e oggi vi accompagniamo nella quattordicesima puntata della nostra pubblica Matinee, la piccola bottega dei grandi film dimenticati con The Gang di Rupert Wyatt. Los Angeles, nipote del diciassettesimo uomo più ricco della California secondo la rivista Fortune, James Bennett possiede una visione drastica del mondo e dell'esistenza, o sia tutto o non sia nulla, ricchezza, istruzione, intelligenza, talento, avvenenza, questo è tutto ciò che Jim ha avuto dalla vita, dodi che gli hanno permesso di fare tanta strada, come vincere decine di borse di studio nelle più prestigiosi università d'America o scrivere un saggio ritenuto la migliore opera prima letterale degli anni 2000. Quello che Jim non ha avuto sono stati un padre, la felicità e più soldi di quanti non fosse in grado di spenderlo. Forse proprio per via di questa sua sconsideratezza che suonano Jonathan, ricco filantropo e quanto di più vicino a un padre per lui, se ne è andato nella tomba senza lasciare il becco di un patrino. Forse è per questo che Jim ha perso via via lo smalto e gli stimoli di un tempo, lo stesso amore per la vita, in virtù di una seconda oscura esistenza giocata, letteralmente, tra i tavoli dei casi no abusivi della malavita. Professore di letteratura frustrato, trasandato, disprezzato dai colleghi e poco compreso dagli studenti per la sua fastidiosa propensione a dire sempre la verità per quanto sia poco gradevole, scontento del proprio lavoro e con un vizio molto pericoloso come quello del gioco d'azzardo, Jim è infatti un ludopatico incapace di fermarsi tanto quanto vince quanto quando perde. E dopo aver perso 260.000 dollari giocandone al posto sbagliato, si trova nei guai. Chiede allora un cospicuo prestito a Little Frank, vecchia conoscenza temutissimo gangster, per rientrare in pari con un suo concorrente in affari, Neville Barak. Mentre ciò che resta della sua famiglia gli volta per sempre le spalle e a cercare di tirarlo fuori dall'avviso l'ultima persona che mai avrebbe immaginato, per Jim inizia una lenta inesorabile discesa nel mondo della criminalità, fra strozzini a liberatori e maniaci del gioco, in un inferno privo di qualunque regola. In 007 il casino royale di Martin Campbell, l'agente segreto più famosa di sempre solleva dire che a poker non giochi con le carte che hai in mano, ma contro la persona che hai di fronte. Da qualsiasi angolazione non si guardi, il poker è un gioco complesso che entusiasmo coinvolge e spesso rovina chi vi prende parte. Non si contano nella storia della settima arte le pellicole che lo hanno trattato esaltando nella fascinazione il magnetismo che esercita sui suoi giocatori, o le sue vittime, creando vere e proprie legioni di esperti, appassionati, neofiti, ma anche disperati pronti a tutto pur di arrivare in fondo a una partita uscendo nel vincitore sugli altri, o perdendo miseramente provandoci. Dai classici La città nera di William Bitterl, apposta grossa a Dodge City di Fylder Cook, per arrivare ai titoli più recenti come Run and Run di Brad Furman, Joker Wild Card di Simon West, in coercizionale di Paul Schrader e Poker Face di Russell Crowe, passando per la spensieratezza western di Maverick di Richard Donne o il ritmo adolescenziale di Twenty One di Robert Luppetich, ma anche la cupezza dei nostri anni, il regalo di Natale di Pupiavati e il passato e la terra straniera di Daniele Vicari, di Sidney di Paul Thomas Anderson o del giocatore di John Dane, o i meno noti Hardball di Brian Robbins, le regole del gioco di Curtis Anson e Mississippi Grindy di Anna Boyden e Ryan Flack, in cinema raccontati in centinaia di modi l'ossessiva e disperata corso a loro sui verdi tavoli da gioco. Memore anche dalla lezione europea di Bobby il giocatore di Jean-Pierre Melville, la New Hollywood dei magici 70's sfornò almeno tre titoli sul tema dei miei di nota, la stangata di George Royale, California Poker di Robert Holtman e il non ultimo 40.000 dollari per non morire di Cary Rice, a suo tempo scritto da James Toback, poi autore di un altro memorabile gangster movie Bugsy di Barry Levinson. Rifrecimento del film della Rice, che avrebbe poi ispirato l'omonima canzone del 1978 di Kenny Rogers, The Gambler ripesca il soggetto originale di James Toback, ma questa volta... Complice a una produzione firmata dalla coppia Irving Winkler e Robert Shartoff, dinamico duo responsabile di tanti bei film della New Hollywood da Non si uccidono così anche i cavalli di Sidney Pollack a Rocky di John Evelson, affida la sceneggiatura al bostoniano William Monan, già premio Oscar per The Departed, il bene e il male di Martin Scorsese e artefici negli anni di copioni di successo per registri come Ridley Scott, per cui scrisse le crociate The Kingdom of Heaven e nessuna verità, Martin Tan, che ha il coraggio di dare un gioiellino come fuori controllo Edge of Darkness, Jovers Kosinski, per Oblivion, e qui capolabelle più o meno, Robert Rodriguez, per Sin City una donna per cui uccidere, e anche l'irlandese Neil Jordan, per il suo ultimo Marlowe con Liam Neeson, che non vedono mai. Abile nella descrizione degli ambienti criminali e vero e proprio antropologo di quei bassi fondi, Monan è tuttavia uno di quei fuoriclasse della nazione che, se non adeguatamente tenuto a freno da registi e produttori, rischia di creare minestoni di parole capaci di influenzare il risultato finale di produzione grandiosa, con script verbosi nei quali emerge tutta la sua smisurata cultura classica, un po' come la nostra, che fanno un po' pugni con determinate situazioni che stanno accadendo sullo schermo, o di snocciolare, come già gli era accaduto di fare in London Boulevard, di cui aveva curato pure la regia, slang tipicamente British, mettendole a fuoco con la lente americana. Tradotto, immaginatevi un asiatico parlare un indietro, non storico. Ciao a tutti! Eeeh, ma che vieni spade sicoria! Oh, sei a dici anni e indosso la 28. Sì, ma perché sarda? Oh! Ha belli capelli, della... Guarda quella... Sveglia di uscito, mo! Ahahahah! Uè, testina, la sigaretta no, eh! Vi è stato a fumare? Questo per dire che se in The Gambler doveste vedere e sentire protagonisti più o meno positivi, Polosky e antagonisti profondi essi in dialoghi filosofici che saltellano da Shakespeare a Sartre, passando per Dostoevsky e Proust, non allarmatevi, fa tutto parte dello spettacolo. Dal ponte, il protagonista del film originale e della remake, tanto l'Axel Frey di James Khan quanto il Jim Bennett di Mac Wahlberg, sono entrambi docenti in letteratura, perennemente invidico tra esistenzialismo e perdizione, alla continua ricerca del piacere attraverso il rischio, disperatamente in ricerca di quel sentiero dell'eccesso che, come sosteneva William Blake, dovrebbe condurre al dorato palazzo della saggezza. Ma, come suggerisce una fluviale biblica sequenzonerica, la sregolata inerzia biologica di Jim Bennett assomiglia più a un proverbio indiano. La vita è come un ponte di corde, puoi attraversarla, ma non costruirci sopra una casa. Nelle intenzioni originali, a dirigere il timone ed ente l'operazione, avrebbe dovuto essere niente popò di meno che Martin Scorsese, con il magnifico Leonardo Di Carlo. A causa dei precedenti impegni, i due non hanno potuto prendere parte al film. Con una coppia simile, già rodata di diversi film, viene a domandarsi, come avrebbe potuto essere questo The Gangla? Tuttavia che li sostituisce a non far rimpiangere il risultato finale. Al loro posto troviamo Rupert Wyatt, regista inglese del Devon, fattosi conoscere con una gemma carcerale come Prison Escape, con Brian Cox, Joseph Fiennes e Dominic Cooper. Poi passato a dirige il fanta blockbuster come L'alba del pianeta delle simbie e Captive State. E un convincente Mark Wahlberg, una volta tanto calato in un ruolo non muscolare, dove può esprimere pienamente il proprio talento, quale? Conferendo un animo cinico, incrinato da un sussulto di speranza a un tormentato giocatore sempre più prossimo ad assominiare al protagonista il suo romanzo preferito, Lo straniero di Albert Camus. A sedersi con lui al tavolo del destino i suono John Goodman, figura rassicurante, una a sua terrificante natura di gangster mental. Il compianto Michael K. Williams, rass del rione con ambizione da quartieri alti. Jessica Lange, borghese californiana devastata dal materno senso di colpa. E la salvifica Brie Larson, ancora lontana dai panni di Capitan Marvel. Uno specchio e Brie a tavolo 2! Pronto a giocare la sua ultima partita fino in fondo, Jim Bennett scoprirà a sue spese due amare ma mai così preziose lezioni, dalle parole di George Moore, poeta drammaturgo irlandese, e Ralph W. Emerson, filosofo trascendentalista ispiratore del pragmatismo americano. Un uomo viance per tutto il mondo in cerca di ciò di cui ha bisogno, e poi torna a casa e la non trova. Ma è anche vero che possiamo girare tutto questo mondo in cerca di ciò che venga. Se però non abbiamo già dentro di noi, difficilmente potremmo trovare quattro ore. Il poker non c'è altro ragazzi, è semplicemente la vita. Alla prossima! Ovviamente su Rennochilla! Bye bye!